A Pescara A Pescara ha festeggiato il 248 anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza. Ce ne parla Paolo Renzetti. Il colonnello Antonio Caputo ha sottolineato l'importanza della ricorrenza. È una giornata importantissima che cade in concomitanza con il nostro 248 anniversario, il nostro 248 compleanno. Lo stiamo festeggiando qui nel cuore della città, in uno dei luoghi simbolo, in questa crocevia tra il fiume, l'entroterra e la costa adriatica a fianco della collettività. E questo è il significato di questa cerimonia svolta qui, tra la gente e per la gente. Il comandante provinciale delle fiamme gialle di Pescara ha poi messo in evidenza anche l'importante opera di contrasto alle frodi in commercio più che mai attuale in questo momento storico in cui è aumentato il costo delle materie prime. Siamo attenti su tutti i settori della polizia economico-finanziaria. In particolare, ormai da 100 anni a questa parte, la Guardia di Finanza è una polizia antifrode. E quindi anche le frodi sui carburanti che pesano tanto sui nostri portafogli in maniera diretta e indiretta, perché poi incidono anche sull'aumento dei prezzi dei beni di prima necessità, per noi è uno degli obiettivi principali sui quali stiamo sempre ogni giorno a presidiare e a controllare per evitare speculazioni. Una news di Cronaca è ricoverata nel reparto di chirurgia pediatrica dell'ospedale di Pescara con una prognosi di 21 giorni e la bambina di due anni e mezzo che ieri è stata morsa da un cane sul lungomare nella zona centrale del capoluogo adriatico. La piccola ha riportato lesioni al volto, in particolare su naso e labbra, che sono state saturate dal personale sanitario e ora in osservazione. Intanto l'animale, un armstaff di due anni, è stato sottoposto a sequestro fiduciario presso la proprietaria. La donna rischia ora una denuncia per lesioni colpose. Cambiamo argomento per sopperire alla carenza di personale al pronto soccorso. Il direttore generale della ASL di Chieti, Shell, ha deciso di chiudere in modo unilaterale geriatria, un reparto fondamentale in questo momento in cui i contagi continuano e il gran caldo causa scompensi agli anziani. Selenia Secondi. Il sconcerto è stato espresso dal rettore dell'università, D'Annunzio di Chieti, per questa decisione unilaterale del dirigente della ASL, Shell, di chiudere il reparto di geriatria. Si sarebbe aspettato quantomeno un'interlocuzione con l'università? Certamente, perché la clinica geriatrica è una clinica universitaria, direzione universitaria. Io sono una universitaria convenzionata, sono ordinario di medicina interna e quindi a tutti gli effetti questa clinica, oltre che avere la funzione fondamentale assistenziale con 23 posti letto dedicati a pazienti anziani e fragili, è una clinica a tutti gli effetti inserita nei percorsi universitari obbligatori degli studenti, dei tirocinanti, degli specializzanti, cruciale per la loro formazione e per il mantenimento anche delle scuole di specializzazione. E quindi l'università è un interlocutore fondamentale, il primo sotto questo punto di vista. Che ricadute avrà praticamente questa chiusura del reparto sull'utenza? Temo che avrà delle grosse ricadute, perché di fatto vengono soppressi al momento 23 posti letto, che sono quelli dedicati, con un percorso dedicato ai pazienti anziani, che sono i pazienti più fragili, i pazienti più bisognosi di ospedalizzazione e di cure e di personale dedicato. Colgo l'occasione per ringraziare il mio staff medico, infermieristico, ausiliario, perché è veramente personale, oltre che preparato, ma estremamente dedicato. Tutto questo dal 28 giugno non ci sarà più e quindi avremo oltre che 23 posti letto in meno in area medica, li avremo in un momento in cui c'è invece un aumento enorme di richiesta, soprattutto per i pazienti anziani, che sono ad altissimo rischio di scompenso, soprattutto in questa fase di caldo, quindi disidratazione, possibili scompensi di patologie croniche e anche in considerazione dell'aumento dei contagi Covid, perché la clinica geriatrica è stata anche fortemente implicata, coinvolta e attiva nella lotta al Covid. In questi anni siamo stati in prima linea proprio nell'emergenza Covid, essendo Covid per molti mesi consecutivamente a più riprese. Di fatto, proprio in un momento in cui i contagi stanno aumentando e stanno aumentando i ricoveri, soprattutto degli anziani in relazione a questa emergenza, viene meno anche totalmente la possibilità da parte nostra di poter dare un contributo all'area medica sotto questo punto di vista. Io auspico vivamente anche alla luce proprio degli aumenti dei contagi Covid recenti e quindi tutte le emergenze che si stanno profilando, oltre quelle che già ci sono, che le necessità di coprire i turni al pronto soccorso possano essere ovviate in altro modo. Confido nella possibilità di una soluzione alternativa che non passi attraverso la chiusura di una unità medica. È importante per l'utenza, è importante per gli anziani, è importante per i cittadini, è importante per gli studenti e per l'università in toto. Di nuovo una settimana di stop produttivo alla Sevel di Atessa per il mancato approvvigionamento delle centraline per allestire il furgone Ducato. L'attività lavorativa sarà sospesa per tutta la settimana dal 27 giugno lunedì al prossimo primo luglio. Il reparto di CKD della lastratura lavora regolarmente. La Sevel era ripartita martedì 21 giugno dopo un'altra settimana di blocco produttivo. Purtroppo la situazione centralina non migliora, dice la Wilm. L'azienda, sotto nostra richiesta, si è resa disponibile al rientro e trovare soluzioni contrattuali per far maturare il rateo a lavoratori che non matureranno per effetto della CIG. Voltiamo pagina, la riunione della conferenza Stato-Regioni ha indicato l'Abruzzo come regione a rischio medio per il problema della siccità. Confagricoltura chiede comunque interventi per sostenere le imprese abruzzesi. Vediamo. E allarme siccità in tutta Italia. Nella sede del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si è tenuta la conferenza tra Stato e Regioni per fare il punto della situazione. Il tema della siccità tiene banco da giorni in tutta Italia. L'emergenza idrica che ha colpito il nord sta interessando sempre di più anche il centro e il sud. In questa fase l'Abruzzo è considerato a rischio medio. Assieme a Liguria, Toscana, Marche e Puglia a rischio medio-alto ci sono Lazio e Umbria, mentre sono ad alto livello di rischio Emilia Romagna, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta. Si va verso lo Stato di emergenza. Governo e Protezione Civile stanno lavorando per valarlo con un decreto che dovrebbe entrare in vigore a luglio. Intanto per fronteggiare l'allarme siccità su più fronti, con l'infrastrutturale delle competenze regionali ed eventuali ristori, è stato deciso di istituire un coordinamento con le amministrazioni interessate. Protezione Civile, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero della transizione ecologica, affari regionali, Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili e Ministero dell'economia e finanze. La siccità incombe sugli agricoltori, su tutti gli agricoltori del Fucino, ma non solo. Io penso che a livello regionale le problematiche cominciano a rappresentarsi in maniera impattante. Sul Fucino notiamo che ancora non è così grave come il resto d'Italia, però è ora di intervenire. Abbiamo interloquito a più riprese con la regione e con il governo centrale, la speranza che comunque si dia un taglio definitivo a questo progetto che possa risolvere gran parte le problematiche del territorio. Il mare più bello italiano 2022, il titolo della guida blu con le località balneari premiate con le vele di lega ambiente. In Abruzzo premiata la costa del Cerrano. Vediamo. Una mappatura più che una classifica dei luoghi più significativi della costa e dei laghi d'Italia. Sono circa 100 le località inserite all'interno della guida blu 2022 edita da lega ambiente e Touring Club Italia. Da più di 20 anni la guida crea spunti per una vacanza attiva fatta di esperienza all'aria aperta, di visita ai borghi e legata soprattutto ad una mobilità sostenibile. Sì, è un tassello, un gradino che manca a Torre del Cerrano che in questo momento guida il brand Abruzzo per le vele lega ambiente Touring Club. Bisogna lavorare ancora su qualcosa però a nostro avviso il salto di qualità è fattibile anche perché è diventata ormai una buona pratica consolidata e sta facendo un po' lavoro sul tema della vacanza attiva e sostenibile. Elemento che premia sia la qualità che la conservazione di questo territorio. Unica premiata in Abruzzo, la Torre del Cerrano che conferma le quattro vele, punta per il prossimo anno al massimo riconoscimento, ovvero la quinta vela. Questo sarà possibile grazie ad un lavoro sinergico tra le amministrazioni comunali di Silvi e Pineto e le varie associazioni del territorio. Siamo tra i 22 in tutta Italia rispetto alle 100 bandiere assegnate alle varie località. Ovviamente ci piacerebbe anche raggiungere la quinta vela, sappiamo che questo significa migliorare i servizi, migliorare l'accoglienza, migliorare il territorio. Buona parte del turismo costiero avviene nella provincia di Teramo dove i nostri due comuni di Silvia e di Pineto sono parte integrante e fondamentale. Sappiamo che soprattutto il fine settimana si riversano tantissimi turisti dalla zona metropolitana di Chia di Pescara o dall'entroterra e migliorare la qualità del servizio preservando l'ambiente grazie alla collaborazione di tutti, le associazioni volontariato e non, è un obiettivo indispensabile. Torniamo a Pescara perché i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle scendono in campo per il progetto del nuovo ferro di cavallo e coinvolgono cittadini e residenti. Vediamo. Il Movimento 5 Stelle di Pescara si prepara ad una vera e propria mobilitazione cittadina per cambiare il volto del progetto di ricostruzione del ferro di cavallo presso il quartiere Rancitelli di Pescara che l'Ater, secondo i pentastellati con la complicità del sindaco di Pescara Masci e del centrodestra cittadino, vogliono portare avanti. Esattamente, è in corso la variante urbanistica che consentirà la demolizione dell'attuale ferro di cavallo e oggi lanciamo una grande mobilitazione cittadina per trasformare il progetto di ricostruzione che Ater, con la complicità di Masci e del centrodestra, intendono portare avanti. Vogliono cioè ricostruire ulteriori residenze, cioè case popolari, sempre nel medesimo quartiere, ma Rancitelli non ha bisogno di ulteriori case popolari, ha bisogno di una piazza, di asili nido, di sedi di associazioni, di sedi di biblioteche, ha bisogno cioè di servizi pubblici che siano a sostegno proprio della vita, della quotidianità, della comunità dei residenti di Rancitelli. Oggi lanciamo questa grande movimentazione popolare per scrivere insieme e consegnare fino al 7 di luglio le osservazioni che quindi possono richiedere una modifica del progetto previsto e lanciamo l'invito a partecipare a tutta una serie di eventi pubblici che farà non solo il Movimento 5 Stelle, ma anche il Comitato di quartiere per una nuova Rancitelli, a partire da questa sera alle 20.30 nella chiesa, nella parrocchia dei Santissimi Angeli Custodi. Domani, 25 giugno, per le vie del Centro Storico di Teramo, sfilerà il primo corteo nella storia dell'Abruzzo della comunità LGBT. Il cielo si tingerà di arcobaleni coloratissimi, mentre in Piazza Martiri si terrà prima una riflessione politica e poi tanta musica. Tania Bonnici Castelli. Dopo Pescara nel 2020 e l'Aquila nel 2021, dopo un'intensissima Pride Week di eventi che ha toccato in questi giorni alcune località abruzzesi, sabato 25 giugno a Teramo si svolgerà per la prima volta in Abruzzo il corteo tutto arcobaleno. Il coordinamento di Abruzzo Pride ricorda che si sfila per ogni persona che in questo momento non sente una comunità al proprio fianco, che si sente sola e non riesce a vedere il proprio futuro sereno. Si sfila per loro e per un Abruzzo sempre più forte, gentile ed orgoglioso. La Pride Week ha iniziato la sua transumanza a partire dal Gran Sasso, passando per l'Aquila, Chieti, Pescara, per concludersi a Teramo con il corteo del 25 giugno. L'organizzazione promette che il cielo della città verrà colorato con grandi arcobaleni dedicati alla comunità LGBT e alla lotta contro le discriminazioni. Il raduno è previsto alle ore 15 e 30 in Piazza Madonna delle Grazie a Teramo. Il carro dell'Abruzzo Pride sfilerà per le vie del centro storico e arriverà in Piazza Martiri alle 17 per un momento di riflessione politica. A condurre ci sarà la Drag Queen Nausicaa Vamp, presentatrice ufficiale per il terzo anno di fila della manifestazione. Subito dopo verrà data la parola alle associazioni e alle varie realtà aderenti. Oltre 60 in tutta la regione. Il comune di Teramo ha dato il suo patrocinio all'evento al quale parteciperà anche la Cigelle e l'Università. La serata sarà animata da un DJ set esplosivo e da vari gruppi musicali. Il coordinamento Abruzzo Pride invita tutte le persone a manifestare con orgoglio e virtù per un Abruzzo più inclusivo. Un libro destinato alle classi prime delle scuole medie, quello promosso dal Rotary di Chieti, una ricostruzione puntuale basata su forti storiche autorevoli come l'archivio di Stato e l'archivio della Curia per raccontare un passato importante tra dominazioni che hanno fatto del bene alla città e quelle che invece l'hanno solo. Piegata, vediamo. Un volume destinato alle prime classi delle scuole medie per contribuire a ricostruire il senso d'identità del territorio. Si chiama Teate Medievale, il volumetto promosso dal Rotary di Chieti per consentire agli studenti e a tutti coloro che lo vogliano di riscoprire le radici della città tra il 1000 e il 1400. Edito da Edicolè, casa editrice teatina, il libretto è il frutto di anni e anni di studi di uno degli esperti di storia della città. Aurelio Bigi ha studiato da sempre il passato di questa città. Come era allora Chieti nel Medioevo? Chieti è sempre stata una città bella, una città importante, una città piena di monumenti importanti e è tuttora seguita ad avere una testimonianza del periodo medievale. Chieti è stata capitale sotto gli aragonesi di tutto l'Abruzzo, sia dell'Abruzzo Citeriore che dell'Abruzzo ulteriore. Con gli angioini si è triplicata, gli angioini costrinsero come si suol dire con le buone e con le cattive a tutti coloro che abitavano intorno alla città di venire ad abitare dentro le mura di Chieti. Per cui Chieti passò da 500 fuochi, per fuoco si intende un nucleo familiare, ha 1500 fuochi, cioè ha triplicato la sua popolazione. I rioni trivigliane, per intenderci Santa Maria e Terranova, la zona di Sant'Antonio, nacquero proprio sotto gli angioini. Gli svevi fecero altrettanto bene alla nostra città e ai dintorni Santa Maria Rabone, una costruzione dell'epoca sveva. Ci sono state dominazioni invece in cui Chieti ha sofferto, basti pensare ai Franchi che nell'801 hanno completamente distrutto la nostra città. Una pubblicazione destinata alle scuole medie? Sì, la pubblicazione è destinata, ne abbiamo parlato e discusso internamente, alle scuole medie, in particolare alla prima media, perché la prima media è l'anno in cui ai ragazzi, agli studenti viene sottoposto lo studio del periodo, che credo non si faccia in maniera assai approfondita e quindi dare la possibilità nell'ambito e di iniziativa nostra e del quadro più generale in cui noi ci viviamo, abbiamo una delle vie di azione del Rotary e tipicamente quella verso le giovani generazioni, di dare un contributo sia al territorio e della storia locale, seppur inserita in un ambito più ampio. Ed ora la pagina dello sport, dopo il triennio 2010-2013 Daniele Dellicarri torna a rivestire l'incarico di direttore sportivo del Pescara. Subito chiaro l'elemento di rottura rispetto al recente passato. L'organico dovrà essere giovane e comunque forte e competitivo, vicinissimo l'attaccante Luigi Cuppone dal Cittadella Ufficiale. Invece la cessione a titolo definitivo di Zita al Bereshot. Ascoltiamo Daniele Dellicarri, del servizio di Andrea Costantini. Direttore, prima domanda su questo ritorno, l'aspetto un po' umorale, emozionale, tornare a lavorare a Pescara. Beh, questo è l'aspetto che più mi interessava. Io quando ci siamo visti ai primi di giugno più o meno, abbiamo fatto una chiacchierata generale, ci siamo detti delle cose, che c'era la possibilità di tornare a lavorare insieme. Fermo restando, lui sapeva i miei obiettivi quali erano, non erano aspetti contrattuali nei confronti del Pescara, non era un aspetto contrattuale, era un aspetto di ripartire in una certa maniera con le idee di calcio, non con i soldi, perché il calcio non deve vivere di soldi, ma deve vivere con le idee, di conoscenza, di competenza. Per me Pescara è stata, da parte di loro, io lo devo ringraziare perché ha pensato forse a una figura come la mia, molto vicino anche alla filosofia sua, perché nelle varie chiacchierate che abbiamo fatto prima di aver definito un accordo tra me e lui, una cosa ho sentito di dirgli e di sentire lui mi ha dato atto che Pescara nella filosofia di questa società nel 2009 venne costruita su una base di filosofia giovani e io gli ho detto negli ultimi 3-4 anni questa filosofia è cambiata, per me è sbagliato, la filosofia non è quella che spendi 10 milioni con i grandi vinci, spendi anche 5 milioni e ci sono i giovani vinci e i patrimonializzati, dipende dalle scelte che fai, naturalmente bisogna partire in silenzio, lavoro che è la cosa più importante, è naturale che non ti nascondo l'emozione, sono molto emozionato però poi dovrò dimostrare fuori il campo, io sono una persona che parla poco, sono sempre stato abituato così di avere rispetto anche nei vostri confronti, di dirvi la verità o non la verità perché purtroppo le strategie fanno parte del mio mestiere e qualche volta vi dirò la verità, qualche volta vi dirò qualche bugia. 20 giocatori circa sotto contratto, però ha sottolineato il Presidente l'esigenza di dare una ventata di freschezza, è così? Sì, anch'io sono sempre per rinfrescare quando parti con un progetto nuovo, diverso perché andiamo a vedere se io ho analizzato a casa in questi giorni che dalla sedicesima partita di campionato Pescara, Lucchese, se non sbaglio hanno cominciato a giocare i giovani, questa cosa un po' mi dispiace, non posso pensare che in sedicida dalla sedicesima di campionato cominciano a giocare i giovani perché si fa male di Gennaro, gioca Sorrentino, perché è vero che gli viene considerato dopo, piuttosto che Dele Mone, che gli altri giocatori, che è Chiarella che ha avuto problemi di infortunio. Quest'analisi che ho fatto sinceramente è un'analisi che a me non sta bene, perché io ho la filosofia, giovane, l'età non si chiede, è bravo? Gioca, non è bravo? Non gioca. Presentata la domanda di iscrizione per il Teramo potrebbe aprirsi una battaglia legale per far valere le proprie ragioni qualora la Covid-19 decidesse di respingerla. E l'inizio di luglio sarà fondamentale per questo. Vediamo il servizio di Jacopo Forcello. Attesa per luglio, che sarà un mese cruciale, specie nella prima parte, per il futuro del Teramo, perché giugno di fatto se n'è andato con l'inoltro della domanda di iscrizione al prossimo torneo. E adesso esce di scena la parte bianco-rossa della questione per fare spazio alla Covizoc, che dovrà controllarne la regolarità e dare l'ok o meno alla partecipazione. Il primo luglio, proprio la Covizoc, comunicherà alle società le eventuali bocciature. Entro il 6 andranno presentati i ricorsi e poi l'8, il Consiglio federale, comunicherà gli esiti. Difficile in questo momento fare delle previsioni. Quello che è certo, invece, è la volontà del diavolo di dare battaglia a tutto campo, ritenendo di aver espletato tutto quanto era richiesto e che il famoso indice di liquidità non possa essere ostativo alla partecipazione al campionato. Regina e Triestina, due delle formazioni insieme al Messina che sembravano a rischio, con un cambio repentino della compagine societaria, hanno evidentemente avuto la forza di sistemare quello che serviva. Chiaramente il Teramo non aveva la stessa possibilità, posto che c'è una parte, la più consistente della compagine, che ha a che fare con un sequestro conservativo delle quote, congelate fino a decisione contraria. E l'istanza di sblocco last minute di mercoledì pomeriggio, respinta nuovamente dal Tribunale di Roma, dimostra che di tempo per risolvere la vicenda ce ne vorrà ancora un po'. Certo è che il diavolo è pronto a fare la sua parte nelle aule della giustizia sportiva. Nel frattempo, la parte più calda della tifoseria non ci sta. Chiede che l'attuale dirigenza si faccia da parte e lo fa con un messaggio esposto sotto la curva S del vecchio comunale, luogo simbolo degli ultras biancorossi. Intanto, il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha parlato di evidente sproporzione tra i sacrifici a cui sono sottoposti i presidenti di Serie C rispetto ad un calcio, quello di A, che di partenza ha mezzi evidentemente maggiori. 12 milioni di euro contro 4 milioni e 300 mila. La prima, ha detto Ghirelli, è la somma versata dai presidenti nelle società di Serie C per ricapitalizzarle e adeguarle ad un indice di liquidità fissato allo 0,7%, che vale anche per la Serie B. La seconda pare a circa un terzo della prima e la somma versata nelle casse delle società di Serie A per affrontare il prossimo campionato con un indice pari allo 0,5%. Un calcio, come quello italiano, che matura ogni anno uno spaventoso deficit di 1 miliardo e 300 milioni di euro e che rifiuta di adeguarsi anche ad un indice di appena lo 0,5% è un calcio lontano da quegli obiettivi di risanamento e sostenibilità che costituiscono un presupposto imprescindibile per il suo rilancio. Ringrazio i presidenti dei club, ha concluso Ghirelli, che con la loro azione imprenditoriale e con un concreto sacrificio finanziario hanno dato reputazione al calcio che fa bene al paese e credibilità alla fabbrica dei sogni. Nei prossimi giorni sarà mia cura sui tavoli istituzionali competenti avere un riconoscimento tangibile a favore dei club di Serie C. In questo momento, però, la partita si sposta a luglio, come detto, e in sede, probabilmente giudiziaria, a meno che il diavolo non riesca ad evitare il primo stop da parte della Commissione di Vigilanza delle Società. I tempi sono quelli che sono, bisogna attendere, e la possibilità di programmare la prossima stagione ha comunque delle incognite, che il Teramo non può risolvere adesso perché dovrà aspettare le pronunce degli organi competenti. Non certo il modo migliore di vivere l'estate. Cambiamo disciplina, i boschi circostanti bussi sul Tirino sono stati lo scenario della terza tappa del campionato italiano di Enduro Major. La vittoria è andata al toscano Alessio Paoli. Vediamo il servizio di Sergio Zappalort. La terza tappa del campionato nazionale Enduro Major è vinta da Alessio Paoli, che era in classifica al secondo posto, ma è arrivato primo in questa bellissima sede di bussi sul Tirino. Gara tesissima contro particolarmente Diego Nicoletti. Tu sei toscano, quindi uno di quelli tosti. Alessio, che gara è stata nel riguardo del tuo avversario? È arrivato secondo. La gara è stata tiratissima perché comunque la top class, la classifica assoluta è sempre combattutissima. Quindi diciamo che questa volta sono riuscito a prevalere io su Diego, l'altra volta è stato lui su di me, quindi è sempre un po' una battaglia così. Comunque sono tutti forti sia traversi che gritti e bazzurri. La linea era bella tutta bucata, c'era tante buche, era molto tecnica, però con il passare dei giri si bucava sempre di più, ma era diventata più bella perché il terreno, le sponde tenevano un po' di più. Il cross test è bello, anche quello con questo terreno particolare che c'è qua, quindi sempre un po' sassoso, un po' di ghiaia, quindi molto scivoloso da guidare, tecnicamente è abbastanza difficile. Gli organizzatori hanno fatto veramente un ottimo lavoro, sono stati molto bravi. Questo è il risultato della terza tappa Bussi sul Tirino del campionato Enduro Major, una finestra luminosa spalancata su un orizzonte che merita attenzione speciale perché è un pianeta spettacolare, avvincente, che cerca il giusto spazio per fascino, importanza, utilità. Un fondersi con la natura senza disturbarla. Quando il gioco si fa in duro, appuntamento alla prossima, mentre scorrono altre immagini della premiazione e salutiamo dall'alto l'ospitale Esplendida Bussi, tra i profumi dei boschi, il giallo esplosivo delle ginestre in fiore e una scia di rombi che scolpiscono tra i sentieri. Un azzurro arrivederci. E sull'evento TV6 trasmetterà un più ampio speciale, questi primi passaggi di Zoom In, stasera alle ore 21, domani sabato alle ore 13.30 e dopo domani domenica alle 16.30 e alle 22.30. Cambiamo ancora disciplina, sono iniziate questa mattina presso il Marina di Città Sant'Angelo le gare del campionato italiano a squadra Lady 45 di tennis. Le finali sono in programma, lo ricordiamo, domenica mattina. Già dai primi scambi in mostra la neocampionessa europea Valentina Padula del Matchball Firenze. Vediamo. Queste Final Four si sono qualificate ovviamente le prime quattro squadre d'Italia di questa categoria, cioè le Lady 45, cioè giocatrici che hanno più di 45 anni. Il girone finale si compone di un girone all'italiana, quindi ogni squadra incontra l'altra e abbiamo tre giornate di gara in cui ogni circolo incontra un altro circolo. Alla fine si stirrà la classifica e chi ha vinto più punti o chi ha vinto più partite vincerà il titolo di campionato d'Italia. Preso il via questo campionato italiano a squadra Lady 45 qui a Città Sant'Angelo, come sono andate i primi match? Assolutamente bene, questa mattina siamo arrivati di buona ora perché le atlete si sono allenate prima di iniziare a gareggiare, quindi hanno fatto un'oretta di allenamento. In campo abbiamo delle atlete ovviamente di indiscusso valore e che in questo momento stanno conducendo entrambe sia il Circo Dance Firenze che il Circo Dance Matchball Firenze e entrambe sono in vantaggio nei primi due singolari. Ovviamente poi aspettiamo il secondo singolare e poi il doppio. Ho iniziato l'anno benissimo, sono reduce da vittoria ai campionati europei in Croazia e quindi insomma faccio il circuito ITF Senior e insomma sta andando molto bene. Sono appena stata convocata dall'Italia, quindi rappresenterò l'Italia ai prossimi mondiali per nazioni che saranno a Lisbona in agosto, quindi diciamo il sogno si è coronato col fatto che vestirò la maglia azzurra. Poi venire qui è bellissimo, rappresentare il mio Circo Matchball Firenze, quindi è uno degli appuntamenti più importanti dell'anno per noi e quindi ce la viviamo come una festa e quindi felice di essere qua. I servizi che avete visto sono disponibili sul canale social Youtube o al sito www.tv6.it Il prossimo aggiornamento con l'informazione alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie per la visione!